buongiorno tutti ragazze oggi voglio voi spiegare e come fare mali per capello per tutti i capelli per tutte le teste io ho preso queste signorina gentilissima quale fa foto modello allora io già raccontavo un video come fare capelli come misurare maggiorare io sempre voi spiegava cosa bisogna prendere centimetro fare così contorno contorno alla testa quanti centimetri e dopo voi fate campioncina dipende quale l'anno voi usate e dopo voi dovete prendere per questi mali adesso io voglio voi fare spiegare altra altra maniera per fare questi mali e senza queste centimetro semplicissimo questa mia regalata una signora a kelly e adesso io cerco lo stesso a raccontare voi allora io ho preso l'anno voi sapete maggior parte io usa l'anno 250 metri nelle 100 grammi oppure 260 mi sembra questa più media 300 più più sottili e anche dipende dalla maglia però questa io ho preso questa 260 metri nelle 100 grammi e adesso io camicia maggior parte sempre bisogna lasciare un un codino senza altra dopo questa attacchiamo alla testa così e dopo io faccio tre giri contorno della testa un giro secondo giro terza giro guardate allora queste signorina io lascio libera allora vuol dire questi metri mi bisogna fare mali da quali noi partiamo a fare elastico una per uno dopo io metto con questa maniera adesso andiamo a tavola e dopo io più preciso voi racconta adesso andiamo a tavola ragazze questa io voglio fare per voi pro memoria guardate come noi abbiamo noi già abbiamo visto noi e questo io ho fatto video come io faceva calcoli di questa adesso altra altra maniera che mi ha regalato adesso io divido con voi facciamo io faccio vedere a ragione lei oppure con questa allora cosa lei mi ha consigliato anche noi facciamo anche noi facciamo quando con giro la testa non dobbiamo stringere e sempre si può oppure aggiungere male quali per voi bisogno oppure diminuire tutte dipende quale voi fate motivo sempre prima di camminare fare noi sempre prendiamo ferie una misura meno elastica perché deve tenere la testa un po strittina elastico non deve non deve ballare e adesso io cammincio a cammincio a fare le mie mie maglie prima mia maglia io faccio con questa maniera perché io faccio una maglia di più perché dopo io devo circolare e adesso io comincio a fare per me maglie questa una questa due questa tre ogni fa fa mali e come comodo di loro perché mille persone mille parere ogni di noi fa nuovi mali con sua maniera perciò voi potete fare e faccio anch'io perché io lo so dove mio codino con questa codina quali io io ho lasciato questa 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 mia mio codino quali io ho lasciato io prendo male fino di questa questa codina e dopo facciamo insieme elastico una per uno perciò nuove mali e facciamo adesso da sole io faccio con questa maniera però voi sapete così io non solo con questa maniera faccio e mi raccomando non stringete qui perché alla testa deve stare elastico e maglia molto molto e comodo adesso continuiamo e ci vediamo più tardi allora continuiamo ragazzi io adesso ho misurato a testa di questa bambola lei aveva circoferenza giro la testa aveva 40 44 44 e qui mi venuta dove io ho fatto questa codina quale io ho lasciato io ho messo proprio questa lucchetto per capire dove verità allora adesso qui venuta 90 maglie e adesso io devo fare elastico non lo so uno per uno oppure due per due tutta dipende dalla nostra desiderio cosa noi vogliamo fare ragazze perché noi ricordiamo perché c'è momenti quando c'è elastico due per due una per uno è molto comodo per esempio elastico due per due meglio cominciare dopo elastico motivo oppure elastico uno per uno dipende quale motivo voi valete valete fare è così e adesso cominciamo a fare il nostro elastico io voglio fare elastico ragazzi e voglio fare vedere cosa 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 questa verità e non mica bisogno tribolare con campioncine però io penso cosa campioncine e sempre e sempre va bene è tutto e adesso continuiamo a lavorare ci vediamo altra cosa ragazzi voglio dire quando voi avete fatto avete fatto mali e questi mali mi raccomando mettete giusto perché questi mali e non non devono non devono girare mettete giusto corretta correttamente guardate 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 non deve devono girare perché adesso quando noi prendiamo con questa maniera e dopo noi noi vediamo come questi mali e diritti stanno tutti tutti corretto e giusto non non devono girare nessuna parte altrimenti dopo molto molto scomodo e camminci a tirare queste le ucchette io ho detto io ho messo per sapere quale coda io ho lasciato questa lasciata coda e così qui è rimasta però per caso come voi bisogna male fare di più voi sempre potete aggiungere dalla questa dalla questa coda oppure come voi vedete per voi troppo voi potete lasciare e adesso cominciamo adesso io faccio vedere come io faccio prima maglia guardate io prendo questa ferro e questo io ho già controllato contorno tutto va bene e adesso io prendo prima maglia io sposto nel questa ferro questa quale diciamo l'ultima cavalchiamo sopra con questa maniera dopo questa prima maglia io porto indietro dopo io stringo questa lana con due due parti così guardate stringo e cammincio lavorare dal dal prima maglia così però non sbagliare e non dimenticare voi potete mettere lucchetto così voi sapete dove l'inizio questo dopo bisogna più avanti quando voi camminciate fare motivo guardate io metto così per chiare per 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 sapere più chiaro e cammincio a fare questo diritto questa rovescio e così io cantino ragazze ecco vedete non mica io ho girato niente io controllata mi raccomando controllate anche anche voi non dovete sbagliare ragazzi e adesso continuiamo io faccio elastico uno per uno voi potete fare due per due oppure tre per due dipende continuiamo allora ragazze ho fatto io come io ho detto io ho preso questi mali questa coda quale mi rimasta è quella e così io ho fatto elastico una per uno e dopo io ho cambiato ferie perché io dico cosa per me già sufficiente fare elastico questo elastico io ho fatto tre centimetri dopo mia lana è finita io che amiciata dal color rosa però non mica queste queste importante e adesso noi dobbiamo fare prova nella nella bambola per vedere è giusto cosa dice che le oppure oppure no e così proviamo ragazze come io non devo continuare fare capellino io tiro questi ferie perché non mica bisogna perché prova prova ha finito guardate io tiro questo elastico e adesso mettiamo sopra la nostra nostra bambola andiamo allora ragazze ho messo io sopra bambola guardate elastico va bene adesso io prova a girare questa questa bambola guardate guardate secondo me va bene però io io preferisco come dire verità questo per me è rischio però io preferisco lo stesso fare campioncino però io dico sincero mi piace mi piace mi piace perciò gira gira testa lei aveva 44 cm io ho provato a fare conti si può fare anche 73 mali con cercaferenza però anche 73 perché non deve essere stringere la testa perciò anche questa da discutere perciò perciò deve essere deve passare così perciò 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 si può dire cosa questa prova va bene perciò si può dire cosa questa prova va bene è rosa qui ho già passata verso tre e mezzo e ho fatto un giro e adesso si può già già passare nel giro numero 4 però dovete guardare quale lana perchè è invernale non deve essere grande grande buche questa non mica per pescare pesce perciò dovrebbe essere più più strette perché testa non deve venire venire freddo perciò qui dalle 33 e mezzo massimo 3 75 e si può fare maglia come voi qui camminciate a fare motivo perché anche motivo c'è motivi quali stringono perciò questa parte dopo elastica voi potete aggiungere quale per voi bisogna per esempio come qui non per esempio qui 90 maglie contorno perciò voi dovete dopo 90 maglie dividere quanti maglie voi avete nel un motivo e dividere per questo dopo voi sapete quanti motivi qui può darsi bisogna anche aggiungere sempre si può qui aggiungere per la testa si può un po allargare guardate guardate voi non voglio come voi fate dopo dopo rifatto come dire sincero sono pire io non piace disfare perciò io sempre cerco anche perdo tempo un po di più però faccio mia conti c'è capellino quali ho fatto mi sembra video 115 anche la io racconto come io ho fatto e dopo guardate anche anche voi per questa ragazza io voi saluto io ho fatto ho fatto tutto perciò grazie a kelly e sorella di lei abbiamo fatto prova perciò provate anche voi come va bene sono contenta come non va bene perdonate grazie buona giornata augurone buon salute fortuna e buon lavoro ora